House of Dragon Episodio 1! Ma sì, parliamo pure di questa serie, che ci frega! Wabalabadabab e bentornati su Nomomamazzo, bentornati nella rubrica Serie TV. Una volta tanto non parliamo di cine-prodotti, di cose tratte dai fumetti, tanto per cambiare, ma è un prodotto che... o meglio, la Serie Madre è un prodotto che è entrato talmente tanto nella cultura pop che non si può non parlare di questa serie perché comunque è molto legata al cuore di molti fan, nerd e non nerd. Sto parlando di Game of Thrones e del suo spin-off prequel che è uscito ieri dal titolo House of the Dragon. Opera tratta da un libro, ancora, di Martin, che così invece di finire Game of Thrones ha pensato di scrivere un prequel e che parla principalmente della casata dei Targaryen. La casata dei Targaryen è, come lo stesso disclaimer dopo la sigla molto bella di questo spin-off, dice che è ambientato 172 anni prima delle vicende del re folle, 172 anni prima della nascita di Daenerys Targaryen. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che hanno un drago o un animale domestico e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo primo episodio e di questo video. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, così potete vedere quello che faccio oltre a YouTube. Ho anche pubblicato una mini recensione di un minuto su TikTok, quindi seguitemi a questi link. E c'è anche il gruppo Telegram, se volete, dove trovate tutte queste cose che ho appena detto, qua sotto in descrizione, aprite la descrizione e trovate tutti i link linkosi linkabili. Ammetto che per una serie così fantasy, ma anche molto, non lo so, che parla fondamentalmente di regni, di regnanti e di alberi genealogici, sarebbe stato utile avere carta e penna a una prima visione, tant'è che ho riguardato l'inizio per segnarmi alcuni appunti ed è lì che ho appunto percepito perfettamente quanto tempo prima si svolge questa serie e tutte le cose che ho detto all'inizio. Questo è molto utile per capire che tutto quello che vedremo in questa serie non inficerà più di tanto sulla serie madre Game of Thrones, perché 172 anni prima cosa vuoi che si possa citare. E questo dà molta libertà di gioco agli sceneggiatori o allo stesso scrittore Martin, quindi va bene così. Diciamo che è una serie che è molto indipendente dalla serie madre. Sappiamo solo che i Targaryen tendono a... cioè c'è stato il Re Folle e i Targaryen hanno questo lignaggio che è composto anche da relazioni familiari, da relazioni incestuose, non come i Lannister che fondamentalmente avevano una relazione amorosa segreta tra fratelli, ma proprio per un discorso di mantenimento della linea di sangue. E questo, anche se nel primo episodio non lo hanno detto, però è chiaro che tutti i Targaryen, anche quelli sposati tra loro, hanno questi strani capelli platinati, platino, argente, come che dir si voglia. E questo fa pensare che o c'è qualcosa nell'acqua di approdo del re, oppure sono tutti imparentati. Faccio un piccolo riassunto dell'episodio, quindi se ancora non l'avete visto, non continuate a guardare perché cercherò un po' di spiegare quello che ho percepito dal primo episodio, raccontando un pochino cosa è successo, cosa si è svolto. Fondamentalmente vediamo nel prequel questo re Jaeniris, tutti questi nomi con i dittonghi, mannaggia loro, i Targaryen. Jaeniris che appunto è un re che ha regnato per 60 anni e ha avuto due figli, ma entrambi sono morti in modo tragico, non ci viene spiegato come, e quindi decide di scegliere un erede. Quindi già all'inizio ci spiegano che c'è questa possibilità, se il re non ha un erede, una linea diretta di discendenza, può scegliere lui il suo erede quando è ancora in vita, in modo che non nasca poi una guerra alla sua morte, e sceglie, le possibilità erano molte, sono state, probabilmente hanno fatto le primarie e sono usciti solo due nomi finali, uno è il nome di Viserys, che era il più anziano tra gli redi maschi, e una era Rhaenerys, che invece era, non so se era la più giovane, o comunque era una donna. La scelta cade su Viserys e perché è una donna, non può regnare, comunque è strano che regni sul trono di spade, non è tradizione, e già subito nel primo minuto ci fanno capire che la serie un po' parlerà di questo, parlerà di emancipazione, no? Come abbiamo visto anche in modo minore nel percorso di Arya Stark in Game of Thrones. Il tempo si sposta nel presente, nove anni dopo la morte di Janerys, ma sicuramente qualche anno dopo questo concilio, dal momento che c'è la figlia, Rha-Rha-Nira, che chiameremo Massimo Ranieri per comodità, che ha ben più di nove anni e dovrebbe averne almeno quattordici, però non lo so, comunque sembra un adolescente. E vediamo appunto il nono anno di regno di Viserys. Scopriamo che Viserys ha un fratello, che è appunto il personaggio interpretato da Matt Smith, uno dei Dr. Wu, il cattivo di Morbius per intendersi, e questo fratello si chiama Daemon, non so, non lo so, l'ho visto in inglese, non so come l'hanno pronunciato in italiano. E questo fratello è un fratello minore, è un fratello molto... è una testa calda, è anche un po' una testa di cazzo, ed è molto pericoloso. Si capisce che lo hanno spostato da incarico a incarico perché continuava a far danni. Ora finalmente è a capo della guardia della cittadella. Il suo fratello maggiore comunque gli vuole bene, non vuole allontanarlo dal trono, diciamo dalla sua cerchia di regnanti, e quindi il consiglio cerca di spostarlo per accontentare il re in modo che non faccia danni. L'hanno messo alla guardia della cittadella e lì mostra tutta la sua crudeltà, tutta la sua rabbia, perché fa uscire tutte le sue guardie a massacrare questi poveri paesani di approdo del re perché sostiene che ci sia troppa criminalità, che ci siano briganti. Ora io penso... Cioè ho detto cosa mai può succedere in una scena del genere? Escono e fanno una ronda, stile... stile camicie verdi, però che... Cioè se non trovano qualcuno in fragrante non possono far nulla. Invece no, escono e ammazzano a casissimo delle persone e in alcuni casi si sente che urlano Ah, sei uno stupratore! E ti taglio le palle! Ah, sei... Però non ci sono basi, non vediamo nulla che viene colto in fragrante. Non capisco nemmeno se è una cosa che è stata fatta come montaggio o se proprio questi hanno preso e hanno ammazzato gente a caso, magari per sentito dire Ah, quello lì è quello che va in giro a mostrare l'uccello alle vecchiette. Tagliamogli! Cioè è una cosa così fondamentalmente. Questo un po' per mostrare quanto può essere crudele questo personaggio. Cioè nonostante questo personaggio che tra l'altro fa un po' quello che vuole, sta via da palazzo anni, torna, non si fa annunciare, è comunque molto legato alla nipote raniera. Non si capisce molto bene... Io credo che si voglia scopare la nipote, sappiatelo, ve lo dico subito. Non si capisce se anche la nipote vuole farsi lo zio o semplicemente ha un bellissimo rapporto con lui perché comunque ha un rapporto prediletto con lui. Comunque anche lui le vuole sinceramente bene rispetto magari a tutti gli altri che ci sono a palazzo. Quindi non so se la protagonista è infatuata dello zio oppure è infatuata della sua ancella. Non si capisce bene questa cosa. La protagonista appunto raniera è la classica ragazzina che alla sua giovane età va a dorso di un drago. Finalmente qua i draghi ci sono. Ce ne sono non so se dieci o quattordici sotto il gioco di questa famiglia reale. Se ne vedono un paio molto belli, molto strani, molto diversi dai draghi di Daenerys anche perché Daenerys aveva tre uova di drago ed erano tre fratelli. Qua vediamo magari anche delle specie diverse e questo mi intriga molto. E questa ragazza appunto va in giro a torso del suo drago. Vorrebbe che anche la sua ancella cavalcasse con lei. Vorrebbe solo fare quello. Non gli interessa nient'altro di tutta la vita di palazzo. È solo molto molto preoccupata per la nascita del fratellino ma è preoccupata per sua madre perché appunto tutti si stanno preoccupando del nuovo venuto, del fratellino che dovrà nascere e nessuno si sta preoccupando della donna, della moglie. Piccolissima metafora sull'aborto fondamentalmente, cioè su quando le persone pensano sempre alla sacralità della nuova vita che sta per arrivare e nessuno si preoccupa della madre. In questo caso la figura di Daenerys si preoccupa invece della madre che purtroppo avrà un parto difficile al punto tale che i medici saranno costretti a fare una sorta di cesareo improvvisato che comporterà tra l'altro la perdita di entrambi, di madre e figlio. Questo scatenerà appunto il malcontento su Viserys che è molto triste, affranto per la perdita praticamente di quasi tutta la sua famiglia è costretto anche a a fare quello che fece 60 anni prima scusate, quello che fece 9 anni prima Jaenerys ovvero a scegliere un erede. Finalmente lui capisce che ha aspettato tutta la vita per avere un erede maschio e questo lo ha condannato fondamentalmente ha dato una condanna a morte a sua moglie al suo nuovo nascituro quando aveva una possibile erede molto forte già nata tempo prima ovvero re nera lui decide che la sua erede sarà proprio re nera perché re nera e non daemon perché daemon è interessato al trono in modo molto pericoloso cioè i suoi consiglieri i consiglieri del re temono addirittura che possa fare un agguato al re stesso per poter salire prima sul trono quando viseris perde suo figlio suo fratello daemon è in locanda con le puttanone e i suoi compagni della guardia a festeggiare questo evento questo fa scatenare le ire funeste di viseris che lo allontana una volta per tutte dal dal palazzo dal regno quindi quello che posso pensare è che presto vedremo una sorta di guerra fratricida per il trono di spade una cosa molto interessante tra l'altro la posizione di re nera verso suo zio mi fa pensare che non sarà sempre dalla parte di suo padre sarà un po' combattuta tra l'amore paterno e l'amore per lo zio quindi non sarà tutto scontato quello che vedremo sarà molto interessante so già che qualcuno ci lascerà le penne uno dei consiglieri più fidati del re viseris è il padre dell'ancella di re nera e ha un pessimo rapporto con il fratello daemon fratello daemon che secondo me potrebbe anche voler sposare l'ancella di re nera tanto per uno per sfregio a questo consigliere e due magari per tornare in qualche modo a palazzo ma non sembra realmente interessato a lei quindi totomorte io penso che questa ancella prima o poi ci lascerà le penne magari dopo la morte di suo padre questa famiglia ha già perso la madre dell'ancella la moglie del consigliere vediamo una scena molto tenera in cui l'ancella è l'unica che fa le sincere condoglianze al re per la perdita di sua moglie non mancano comunque le scene con i culi di fuori con i bordelli dove vediamo la gente tutta ignuda che tromba in mega orge non mancano delle scene truculente tra l'altro fatte dallo stesso demon che in un torneo per festeggiare appunto la nascita del nipotino ammazza in modo brutale le persone non si limita a sconfiggerle a ucciderle ma si fa diciamo fa scempio dei corpi che ha appena ucciso vediamo in una scena particolare un viso un volto che viene strappato dalla spada con gli scudieri sullo sfondo che vomitano dal disgusto per delle scene così crudeli insieme anche a me onestamente abbiamo vomitato un po' all'unisono ecco questo ci fa capire due cose che non si sono dimenticati del motivo per cui Game of Thrones ha avuto successo ovvero tutte queste scene molto esplicite però non sono più il focus come dieci anni fa dove appunto vedevamo subito un fratello e una sorella trombare in una torre e buttare dalla medesima torre un bambino ma qui ecco diciamo che tutte queste scene un po' truculente le vediamo nella seconda parte dell'episodio mentre la prima parte è appunto stata dedicata fondamentalmente a farci capire di cosa vorranno parlare ovvero dell'emancipazione di questo personaggio giovane e femminile che a quanto capito sarà la prima regina dei Targaryen e quindi vedremo un po' questa sua scesa quindi il messaggio è anche un po' questo da non sottovalutare una scena dove Viserys si ferisce con il trono di spade e ha qualcosa sulla schiena io ho pensato al morbo grigio ma magari è qualcos'altro comunque è chiaro che Viserys prima o poi morirà di malattia per lasciare prematuramente il trono alla figlia quindi vedremo cosa succederà fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa prima puntata fatemi sapere se siete interessati se la volete seguire se invece non ve ne frega niente dove la trovate la trovate su Sky o su NowTV io vi ringrazio per avermi seguito come sempre fino in fondo al video e con l'inchino e con l'embuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video e con l'embuto